Avvocato Aiello, i contenziosi fiscali sono destinati a crescere e ad aumentare nel prossimo futuro in Italia? Purtroppo temo di sì perché c'è una stratificazione di norme che non produce chiarezza, genera una forte esigenza di consulenza specialistica sul risparmio d'imposta, abbiamo tutta un'area di abuso del diritto che è una zona grigia per chi fa penale, perché il penale è una disciplina che ha bisogno della tipizzazione della fattispecie di condotte certe. Proprio di ieri la dichiarazione del Presidente del Consiglio Renzi che dice di voler attendere e sfoltire la normativa fiscale a vantaggio delle imprese al fine di avere chiarezza, nel senso che la norma deve essere chiara, si rispetta e anche l'azienda che ottiene un risparmio fiscale non può essere imputata o non può rientrare in tutto ciò che è il complesso della normativa della giurisprudenza sull'abuso del diritto. Speriamo che questo sia un ospicio che produca sviluppo e produca PIL, ma ahimè, visto il carico di normativa vigente in Italia e la sovrapposizione tra aree che spesso hanno finalità diverse, produrrà inevitabilmente contenzioso fiscale, contenzioso penale tributario. Grazie. 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 Grazie.